Alcune centinaia di persone hanno protestato a Budapest in Ungheria per la sentenza di condanna contro un uomo che avrebbe, secondo la magistratura, favorito le violenze dei migranti al confine con la Serbia lo scorso settembre. L'uomo di cui si conosce solo il nome, Ahmed, è accusato di istigazione a delinquere e condannato in base alla nuova legislazione antiterrorismo. Dice un manifestante, questo verdetto considera i rifugiati come criminali, adesso vogliono legalizzare il fatto che tutti i rifugiati siano criminali, non sono tali. Sono persone disperate che fuggono dalla guerra. Ahmed, 40 anni, è stato condannato a 10 anni di reclusione. Si tratta di un uomo di origine siriana con un permesso di soggiorno europeo che avrebbe aiutato i familiari a percorrere la rotta balcanica. I critici della sentenza considerano questi processi come degli spettacoli pro-governo. Dice la nostra corrispondente, il verdetto è solo un primo grado e gli avvocati dell'uomo hanno comunque promesso di fare appello, cosa fatta anche dal procuratore della pubblica accusa. Adesso, dunque, il processo continuerà in seconda istanza. Dice Andrea, Euronews, Budapest.